ben ritrovati a tutti sono marco pagani coach in commodity spread oggi volevo parlarvi di un articolo che ho scritto troverete sotto al video qui nella descrizione il link a tale articolo e si parla della correlazione che esiste tra lo spread e il future la cosa interessante è in questa parte non l'ho scritto nell'articolo ma è proprio in questo video di cui volevo parlare era a farvi vedere come si può costruire tale correlazione a livello grafico sulla piattaforma di interactive broker quindi darvi qualche strumento in più per poter poi fare le vostre valutazioni nella gestione degli spread e b perché è stato un caso pratico ma reale che ho dovuto come dire ho utilizzato nella scelta operativa e quindi nella gestione del mio money management per farlo come prima cosa passiamo alla piattaforma di alpha for chart e guardiamo di che cosa stiamo parlando ora innanzitutto che cosa era lo spread lo spread era tra il cacao di settembre e il cacao di dicembre di quest'anno periodo storico di quando stiamo parlando di questo spread il periodo storico si riferisce alla fine dell'anno scorso ok allora questo è lo spread e queste sono le medie quello che si vedeva era che effettivamente i prezzi dello spread erano alquanto lontani da dalle sue medie ma non solo eliminando quello che è la componente dello spread inter la parte interessante del cacao è che nella sua vita nell'arco naturale di questo spread c'ha sempre un ritorno intorno allo zero quindi quando eravamo nel mese di novembre e dicembre e ci trovavamo dei prezzi intorno ai 60 quello che ci si aspettava era effettivamente un rientro di tali prezzi verso le medie quindi la mia prima scelta operativa fu entrare intorno al prezzo di 50 perché praticamente qui avevo evidenziato un supporto che una volta rotto poteva addirittura come poi anche stato dimostrato diventare resistenza quindi praticamente ho fatto un primo ingresso in questa zona con l'idea a livello di money management di entrare con un secondo contratto qualora fosse tornato su questi massimi ciò equivaleva a dire praticamente intorno ai 230 ma 250 dollari cosa è successo che in realtà questo spread ha sparato verso l'alto e io non sono entrato a questi prezzi però non sono entrato a questi prezzi perché ho utilizzato proprio quello che è argomento di questo dell'articolo cioè vale a dire la correlazione tra lo spread e l'andamento del future quindi a questo punto passiamo alla piattaforma di interactive broker e vi faccio vedere anche come costruire a livello grafico lo spread e l'andamento del future in modo da capire questa benedetta correlazione quindi passiamo immediatamente alla piattaforma di interactive broker io qua ho costruito innanzitutto ho inserito il future di settembre poi il future di dicembre e ho costruito lo spread questo serve per il semplice motivo che quando inseriremo il grafico avremo già bisogno di questo spread per farlo cosa dobbiamo fare andiamo sulla gamba frontale di settembre che era anche il nostro riferimento comunque questo è il continuous cioè vale a dire che prima era il future di luglio e che quindi continua apriamo il grafico perfetto e qui abbiamo il grafico dell'andamento del future quello che ora dobbiamo fare consiste nel entrare in quello che sono i parametri impostazione del grafico andare su serie secondarie e se abbiamo caricato nella piattaforma lo spread praticamente lo troveremo molto probabilmente anche in prima riga quindi clicchiamo quello che è lo spread lasciate stare se qui non si visualizza ma a me non lo visualizza però è stato inserito entriamo su selezione asse lo metteremo in secondario in modo tale da mantenere quello che è a destra l'asse dell'andamento del future e a sinistra l'asse dell'andamento dello spread gli diamo quindi ok e come per magia noi abbiamo praticamente a candele come sempre il grafico del future e con la linea blu che siamo anche già più abituati a vedere l'andamento dello spread ora quello che io vi dicevo in precedenza era che io avevo fatto un ingresso intorno ai 50 in questo spread e con la idea poi di entrare eventualmente intorno agli 80 che cosa è successo però perché ho cambiato idea perché quando ho visto che la correlazione vedete qua c'è correlazione perché i prezzi salgono del future e anche lo spread i prezzi del future scendono e lo spread scende e quando ripartono i prezzi del del future anche lo spread risale quindi possiamo dire che c'è un'ottima correlazione tra i due cosa è successo vista questa correlazione e visto che i prezzi del cacao effettivamente stavano salendo e questa candela soprattutto che doveva come essere dire interrotta che avrebbe potuto trovare un ostacolo visto che arrivava su dei massimi precedenti è stata rotta e con forza visto che la chiusura di questa candela è stata fatta anche sui massimi me ne sono guardato bene di entrare su con un secondo contratto intorno a questi prezzi perché perché praticamente notavo che c'era effettivamente forza e volontà dei prezzi del cacao di continuare la sua salita quindi non volevo appesantire la mia posizione fin tanto che vedevo i prezzi del future salire in questo modo quindi questo metodo mi ha come dire salvato dalla possibilità di trovarmi con una escursione di prezzi e magari una sofferenza in portafoglio con due contratti anziché con uno superiore cosa è successo che se andiamo a inserire adesso anche un rsi sul grafico del future per farlo basta andare qua serie seconda scusate studi mischiamo indice di forza relativa e lo aggiungiamo anche a un periodo di 9 va più che bene eccolo qua sotto notiamo la classica divergenza cioè vale a dire i prezzi del future che salgono ma l'rsi che scende ecco che allora quando i prezzi da parte mia i prezzi io ho preferito aspettare che ritornassero a testare questi minimi ma una volta rotti mi sono come dire allineato a che prezzo mi sono allineato beh praticamente a 80 cioè vale a dire curiosa come cosa però che mi sono sono entrato agli stessi prezzi del mio piano di trading iniziale però con una grossissima differenza cioè vale a dire che mentre prima era entrato a 50 attenzione che questo spread è arrivato a 120 quindi da 50 a 120 erano 700 dollari di perdita con un contratto ma se fossi entrato addirittura anche con il secondo a 80 io avrei avuto ulteriori 400 dollari per un totale di 1.100 dollari cosa che può essere gestibile per un portafoglio più grosso ma potrebbe mettere in difficoltà la maggior parte di noi che magari abbiamo meno soldi investiti per uno spread ecco che allora la la tranquillità di sapere che stiamo facendo una scelta più che ponderata e corretta cioè vale a dire di non caricare troppa l'operazione per non entrare poi in quel rischio di doverla magari anche chiudere quando magari vediamo anche cose tipo divergenze sull'RSI che ci possono far pensare effettivamente a un rientro ci lasciano come dire un pochino più sereni che è la cosa fondamentale e principale in un trading cioè vale a dire la serenità per una corretta gestione monetaria è anche quella che ti porta più lucidità per poter fare le migliori scelte operative ecco che simpatico perché effettivamente mi sono ritrovato a entrare allo stesso prezzo però questa volta oltre a essere entrato allo stesso prezzo e a vederlo praticamente lo spread scendere con una certa violenza io non ho sofferto tutta questa zona e questa zona è partita dal 14 di gennaio per ritornare al 28 di febbraio cioè è un mese e mezzo in cui ho evitato di crocifiggermi con la testa di dormire bene la notte di essere rilassato e quindi di riuscire poi a fare la migliore scelta operativa bene io con questo ho concluso spero che la cosa vi abbia interessato che vi abbia potuto dare qualche nozione in più su gestione di posizione e soprattutto anche su un miglior utilizzo della piattaforma di Interactive Broker come sempre rimango a vostra disposizione per domande e soprattutto per coaching one to one con me su quello che riguarda commodity spread e la piattaforma di Interactive Broker io vi ringrazio, ringrazio voi, ringrazio la regia e i ragazzi e ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao